Ciao a tutti, oggi preparo gli spaghetti aglio-olio e peperoncino. In una padella ho fatto un fondo con aglio, olio, prezzemolo e peperoncino. Se avete il peperoncino fresco, meglio. Io ho il peperoncino secco e sto utilizzando quello. Quindi ho aggiunto l'olio, due spicchi di aglio tagliati sottili, qualche gambo di prezzemolo e il peperoncino. E sto facendo soffriggere, come vedete, molto molto lentamente. Mettiamo a cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Non appena gli spaghetti inizieranno a cuocere e quindi cominceranno a piegarsi, io li trasferirò nella padella. Ma adesso vi faccio vedere. Eliminiamo innanzitutto i gambi di prezzemolo. E fra un po' andiamo ad inserire la pasta nell'olio. Quindi prendiamo la pasta che è ancora cruda e la andiamo a mettere nell'olio. Nescoliamo per fare insaporire. La prendiamo tutta. E aggiungiamo dell'acqua di cottura. Due. E quindi continuiamo a cuocere gli spaghetti nell'olio insaporito con l'aglio e il peperoncino. Continuando a mescolare e aggiungendo acqua di cottura a necessità. Come vedete io ho aggiunto ancora acqua di cottura. Mescolo continuamente per far fuoriuscire l'amido della pasta e creare quella bella cremina che è tipica degli spaghetti aglio e olio e peperoncino. Continuo la cottura aggiungendo sempre acqua e mescolando in continuazione. Gli spaghetti hanno 8 minuti di cottura. Il tempo di cottura è di 8 minuti. Io li ho tolti dopo un paio di minuti. Quindi regolatevi voi a seconda dei vostri gusti se vi piacciono gli spaghetti più al dente o più cotti. Ci vediamo fra poco. Ecco, come vedete la pasta è cotta e questa è la cremina che si deve formare. Adesso andiamo ad impiattare. La pasta è cotta, la cremina c'è. Adesso spengo, mescolo bene, aggiungiamo il prezzemolo. Andiamo ad impiattare. Adesso mettiamo un altro po' di pasta, un bel nido, così. E prendiamo la cremina che si è venuta a creare. Adesso aggiungiamo ancora del prezzemolo. E se vi piace, dell'altro peperoncino oppure un filo di olio a crudo. E questi sono i miei spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Ciao a tutti, alla prossima videoricetta. Ciao!